Buonasera a tutti, sono Paolo Ravazzani, sono il direttore dell'Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni del Consiglio Nazionale delle ricerche e anche stasera, anche questo giovedì sera, siamo qui a parlare di ricerca, di tecnologia, di scienza avanzata e questa sera abbiamo l'onore di ospitare il dottor Vincenzo Schena di Talessa di Ingegneria Space che ci presenterà vari argomenti di grandissimo interesse, non voglio come sempre faccio, non voglio farvi perdere tempo con le mie parole, ricordo soltanto che l'incontro sarà registrato e che la registrazione andrà pubblicata sulle pagine YouTube dell'Istituto e sul sito, sulle pagine delle news dell'Istituto. Lascio la parola a Giuseppe Virone, mi taccio e ringrazio ancora il dottor Schena, Giuseppe a te. Grazie Paolo, io faccio una brevissima introduzione, racconto solo come abbiamo conosciuto il dottor Schena, praticamente stavamo cercando un supervisor per una parte, se vogliamo, per un'attività legata alla nuova rete Marie Curie in cui facciamo parte, che si chiama Anterra, è una rete legata allo sviluppo di antenne proprio per 6G, quindi l'integrazione di terrestri e non terrestri al network. Abbiamo conosciuto il dottor Schena e siamo stati, io e Alberto Tarambra, siamo stati meravigliati quasi, insomma stravigliati dalla sua, a parte entusiasmo, simpatia, ma anche dalla polietricità e dalla competenza su questo argomento del 6G e dell'integrazione, quindi oltretutto abbiamo visto che ha fatto pure il PhD e laurea, è un fisico ma ha fatto pure il PhD in ingegneria, in particolare tematiche di elettromagnetismo, quindi non potevamo non invitarlo, insomma, avessero avuto il minimo. Tra parentesi, ecco, quello che è importante dire è che il dottor Schena è il responsabile del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo di Tales Italia per quanto riguarda le telecomunicazioni, ok? Quindi mi immagino che tutti i progetti di ricerca su TLC e spazio passano dal dottor Schena e tra le sue interessi chiaramente vedo nella biografia che oltre al discorso 5G ci sono quantum communication, artificial intelligence, criptografia, eccetera, eccetera, anche quantistica, quindi chiaramente magari poi nella parte successiva chiaramente uno può anche spaziare un po' di più con le domande. Quindi ringrazio ancora il dottor Schena e gli dito la parola e noi chiaramente rimaniamo in ascolto. Bene, grazie innanzitutto per l'invito, ringrazio anche la presentazione che ha fatto l'ingegnere Ravazzari e l'ingegnere Virone. Mi fa molto piacere stasera fare con voi questo seminario. Leggendo il mio abstract, il mio curriculum, io mi occupo di diversi temi, sono appunto il responsabile del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo del dominio telecomunicazioni Italia, quindi chi si occupa qui in Talessa Legna Space di telecomunicazioni in Italia. Talessa Legna Space in realtà è una joint venture fra Talessa Legna Space Francia e Talessa Legna Space Italia. Poi abbiamo una serie di altre sedi in Germania, Gran Bretagna, Spagna, un po' sparsi per tutto il mondo, però diciamo i due focus sono in Italia e in Francia, quindi è una joint venture fra Taless e Leonardo. Infatti molte volte mi indicano come Taless, però in realtà volendo vedere bene questo termine è un po' sbagliato perché Talessa Legna Space in quanto Taless è enorme, è un contenitore enorme, che ha tante aziende, si occupano dagli aerei alle navi, allo spazio, all'aeronautica e via dicendo. E stessa cosa dicasi per Leonardo, siamo 67% Tavess, 33% Leonardo. Poi c'è la nostra controparte che si occupa di servizi tecnologici e telespazio che è complementare a noi, quindi 67% Leonardo, 30% Tavess. Allora fra i tanti temi tecnologici che tratto appunto l'ingegnere Virone ha velocemente parlato di intelligenza artificiale, di criptografia eccetera, fra di loro sono molto correlati, infatti nella presentazione che mi accingo a fare in questo seminario racconterò un po' anche questo, di cui il protocollo 5G non terrestrial network e versioni successive ne rappresentano semplicemente una declinazione particolare che mette assieme, amalgama un po' tutte queste tecnologie per poter poi fare una cosa molto importante oggi, che io comincio a illustrare scorrendo la prima slide, lo spazio oggi sta conoscendo un cambiamento epocale, il cambiamento epocale è basato su due elementi fondamentali, il primo è che sta diventando effettivamente un prodotto di mercato, tant'è vero che lo possiamo constatare un po' guardando in televisione le notizie che girano dei vari Elon Musk, dei vari Bezos e altri manager a livello internazionale che apparentemente nulla hanno a che fare con lo spazio ma di cui si occupano. Elon Musk in realtà è stato uno dei primi che da imprenditore privato si è occupato di spazio, anche se lui sapete che è anche il proprietario di Paypal, ha comprato anche ebay, adesso ha comprato twitter, quindi è comunque un personaggio particolare, si sta occupando di spazio da molto tempo, in pochissimo tempo sta offrendo soluzioni tecnologiche che erano impensate fino a qualche anno fa, la stessa cosa sta facendo Bezos, il capo di Amazon in sostanza, che sta investendo in questo ambito, ma sentiamo anche di Bronson, il capo di Virgin, che già da tempo fa queste cose, si stanno intromettendo, si stanno occupando di spazio i cinesi, gli indiani, comunque fondamentalmente si sta allargando la platea internazionale che si occupa di spazio, che sta uscendo già da tempo dal predominio delle istituzioni come la NASA, l'ESA, l'ASI, la Commissione Europea, quindi queste grosse istituzioni che sono in grado di gestire grossi progetti, perché i soldi in gioco sono tantissimi. Adesso invece da qualche anno a questa parte, questo ambito sta conoscendo interesse sul mercato, perché lo spazio ha raggiunto un livello tecnologico tale da consentire oggi di fornire capability e servizi come quelli che fanno le reti terrestrie, ecco perché c'è il 5G che è stato declinato nella sua versione non terrestre al network. Questo consente di avere appunto la possibilità di implementare una rete globale nel vero senso della parola, perché poi se ci pensate bene le reti terrestri non sono globali, ma sono concentrate in particolari aree del mondo, solitamente le più ricche perché per implementarle richiedono costi di infrastruttura molto molto grandi, che molti popoli, molte popolazioni nel mondo, quasi i due terzi non se lo possono permettere. Lo spazio sta fornendo un'opportunità, quindi sta fornendo un'opportunità concreta di ridurre quel famoso digital divide che molte volte scorre sulla bocca di molti tecnici, sia a livello nazionale, sia a livello europeo, sia a livello internazionale e gli eventi di questi ultimi periodi, dal Covid alla guerra in Ucraina, stanno veramente dimostrando quanto sia necessario implementare prodotti spaziali, far entrare lo spazio nella rete. Il secondo elemento è che questo sta costringendo gli spaziali come me a cambiare mentalità, ad avere un approccio diverso a queste tecnologie. Il 5G, come stavo dicendo, è appunto il motore di tutto questo, perché consente una connettività globale. Il 5G è proprio nato, è embeddizzato all'interno nuove tecnologie, è provvisto di intelligenza artificiale, è provvisto nella capacità di utilizzare diversi media o bearer per potersi estrinsecare, non soltanto la radiofrequenza, ma anche l'ottico e altre tipologie di connettività e via dicendo. Che cosa si sta facendo in ambito spazio, specialmente a livello europeo? Se ne stanno occupando l'Agenzia Spaziale Europea, se ne sta occupando anche la Commissione Europea e il 5G sta consentendo anche di mettere assieme le capacità di tutti gli ambiti spaziali, quindi anche la navigazione, l'Earth Observation come il Deep Space sono in prospettiva, saranno in prospettiva coinvolti da 5G, perché noi stiamo avendo una visione di queste tecnologie, proprio il concetto di rete esteso al di là di quello che sono le orbite intorno alla Terra, in sostanza. Si sta parlando per esempio molto oggi di Luna, noi stiamo molto coinvolti, stiamo tornando sulla Luna e stiamo cercando di implementare reti telecomunicative che non saranno più terrestri ma saranno lunari, perché sulla Luna ci saranno una serie di droni, di sistemi che la sfrutteranno per conto nostro, prima di farvi arrivare degli astronauti da cui partiranno per andare su Marte, per cui è necessario avere intorno alla Luna anche un sistema telecomunicativo capace di linkare, di connettere quello che accade, che accadrà sulla Luna con la Terra. Però torniamo sulla Terra in sostanza, sul 5G, quindi come vi dicevo le capacità della rete 5G anche dallo spazio consentirà appunto di avere una copertura veramente globale, quindi di fornire una rete che diventerà, sta diventando tridimensionale, quindi non più con una visione semplicemente orizzontale come attualmente oggi avviene con le reti terrestri, ma come dire spostata verso l'alto, verso le varie orbite satellitari che aiuteranno a creare questa globalizzazione della copertura. Ovviamente questo sarà utilizzato innanzitutto per i servizi più immediati che lo richiedono, come per esempio i servizi legati di tipo governativo, come quelli legati alla sicurezza nazionale, internazionale ed europea per gestire situazioni di crisi, per poter portare avanti servizi molto critici che richiedono una resilienza, una robustezza del link che altrimenti non si può ottenere. Quindi l'utilizzo appunto del 5G nella sua declinazione anche non terrestri al network consentirà di implementare questo concetto di rete che vi sto anticipando. Vediamo come. Beh la prima cosa che noi consideriamo è che il 5G NTN non va considerato da solo, ma va considerato in combinazione con il 5G terrestre, infatti NTN sta per terrestre al network e NTN sta per non terrestre al network. Queste due entità di rete fra di loro si combineranno, si stanno combinando, cercando di fornire servizi di tipo seamless e continui e trasparenti sostanzialmente. Quindi l'utente finale alla fine accederà alla rete senza doversi stare a preoccupare se lo sta facendo collegandosi al ponte terrestre più vicino o al satellite più vicino. Questo è quello che sta accadendo in questo ambito. Questa slide fa vedere un pochettino il percorso, soprattutto la parte grafica, di come il non terrestre al network e il terrestre al network si stanno combinando per fare una rete integrata che nelle varie release che lo standard 5G sta promuovendo in particolare in ambito NTN lo sta portando alla visione del behind 5G che sarà una specie di intermezzo fra quello che attualmente è il 5G e quello che domani sarà e quello che domani sarà sarà il 6G in cui noi avremo integrati nella rete anche i servizi come avrò l'occasione di mostrarvi più avanti. Bene, quello che voglio mostrare in questa slide è appunto il concetto di rete integrata, spazio-terra, è questa figura, questa slide molto pictorale, come dicono gli inglesi, molto grafica, mostra in altre parole il concetto che ho poco anzi spiegato, visto però verso lo spazio. In questa slide voi vedete satelliti fra di loro interconnessi, ci sono interconnessioni in rosso, interconnessioni anche in giallo, cioè i satelliti saranno tutti in costellazione, quindi più di un satellite interconnessi fra di loro fondamentalmente tramite, per la parte feeder link, quindi la parte di accesso di rete, tramite connessioni di tipo ottico, laser, laser com. Diciamo si sta portando nello spazio quello che oggi noi facciamo con i backbone in fibra terrestri che circondano un po' tutta la Terra passando attraverso i mari, soprattutto gli oceani. Ecco, con l'Agenzia Spaziale Europea, con l'iniziativa Hydron, che è un'iniziativa molto importante, stiamo portando questa capability anche nello spazio. Questo ci consentirà di emanciparci un po' da certe costrizioni che oggi noi subiamo a caso del fatto che queste fibre poi passano attraverso degli stati e passando attraverso degli stati, dei territori, sono soggetti anche agli vari umori della politica, della geopolitica, delle tante problematiche che, come dire, il passaggio da nazioni comporta. Portandolo nello spazio questo elemento si riduce moltissimo e quindi diventa veramente una connessione libera in qualche maniera, quindi non condizionata da eventi geopolitici o di altra natura che in qualche maniera potrebbero bloccare o far cambiare il modo di gestire la connettività. Beh, è un po' quello che sta accadendo oggi con la Russia per l'approvvigionamento di gas in sostanza. Se ci fossero delle pipeline, delle forniture di gas ipoteticamente al di fuori della terra, probabilmente questi problemi non ce li avremmo. Quindi questo per darvi un po' un'idea. In questa figura, come vedete, sulla terra ci sono le varie tipologie di servizi che questa rete vuole provvedere, verso le critical infrastructure, verso gli utenti governativi e istituzionali, verso chi si occupa di ferrovia, chi è in mobilità, quindi un po' tutto, oltre ovviamente agli utenti generali, siamo noi, quelli che ogni giorno utilizzano l'accesso in rete per poter aspettare dei servizi. Il 5G opererà come protocollo unico fra tutte queste entità, fra tutte queste tipologie di servizio. Ecco, vediamo adesso un po' più verso lo spazio, come le varie tipologie di orbita. Vi ho detto prima che la rete è tridimensionale, anzi è una rete layer, potremmo dire, quindi fatta a layer, perché partiamo dai satelliti geostazionari che rappresentano un po' la rappresentazione di quelli che sono i backbone, quindi le grosse trunk in cui possono passare grosse moli di dati. I geostazionari visti in configurazione costellativa, quindi più geostazionari, per avere una copertura globale terrestre bastano tre geostazionari più uno, però ovviamente dovendo implementare link ottici fra di loro e via dicendo, i satelliti devono essere geostazionali, devono essere più di questo numero che vi ho detto. Abbiamo fatto uno studio con l'ESA per cui abbiamo appurato che è necessario almeno avere sei satelliti geostazionari intorno alla Terra per garantire un buon collegamento, un ring di laser COM che interconnette fra di loro questi satelliti. Ovviamente questi satelliti saranno collegati con costellazioni in orbita più bassa, quindi tutte le costellazioni MEO che oggi sono molto diffuse, specialmente a livello europeo. Ricordiamo per esempio O3B, che è una costellazione MEO che abbiamo contribuito a costruire anche noi, che attualmente in orbita sta fornendo servizi, è operata da SES Astra, Lussemburgo. I MEO consentono di avere costellazioni un po' più piccoline e più facilmente gestibili, quindi con dei costi un po' più ridotti, però il vero challenging e la vera opportunità è rappresentata dei cosiddetti satelliti LEO, low earth orbit satellite e in particolare i cosiddetti veri LEO o veri low earth orbit satellite, cioè satelliti che orbitano in orbite molto basse, quindi le stesse diciamo della stazione spaziale internazionale per essere chiari. Vediamo un po' di numeri così capiamo che cosa significa. Tipicamente le orbite LEO vanno da 300 chilometri di altezza, che ovviamente è un'altitudine teorica, non diciamo solitamente si è molto più in alto, fino ad arrivare intorno ai 2000 chilometri. Fino a ieri tipicamente i satelliti per telecomunicazioni di tipo LEO orbitavano intorno ai 1600-1400 chilometri di orbita, mentre le orbite più basse, per esempio tra i 500 e i 700 chilometri, sono utilizzate per i sistemi di tele rilevamento, perché ovviamente dovendo fare remote sensing, per poter osservare devono stare il più vicino possibile alla Terra. La stazione spaziale orbita invece è a 410 chilometri di altezza. Ovviamente nella fascia orbitale che va dai 300 chilometri ai 1000 chilometri abbiamo ancora un po' di atmosfera, è molto diciamo rarefatta, però per dei vivoli, dei satelliti che si muovono velocissimamente, con velocità molto alte, l'attrito che questa atmosfera rarefatta provvede è grande, per cui bisogna dotare questi satelliti di opportuna propulsione per poter compensare nel tempo il fatto che tendono ad essere frenati e quindi a cadere sulla Terra. Però il fatto di avere orbite basse, quindi parliamo intorno ai 400, dai 400 ai 500 chilometri, per le telecomunicazioni, consente di avere dei satelliti in grado di fornire servizi con una bassissima latenza, cioè una latenza che comincia ad essere, diciamo, confrontabile con le tipiche latenze terrestri. Che cosa significa? La latenza è il ritardo di propagazione del segnale, quindi poter fare dei servizi real time dove è richiesta un'interazione immediata, per esempio la videoconferenza che stiamo facendo stasera, dove c'è un'interazione immediata fra me e voi, quindi quando mi farete le domande immediatamente ci sentiremo e ci risponderemo in sostanza. Ci sono molti servizi critici che richiedono il cosiddetto real time, per esempio sono servizi telemedicina, di transazione di borsa, oppure sistemi per pilotare in remoto via satellite dei droni. Per fortuna questa tipologia di servizi, nella totalità dei servizi che vengono richiesti solitamente dall'utenza hanno una percentuale molto bassa, perché per fortuna gli utenti solitamente richiedono servizi non sensibili alla latenza, in sostanza. Tipo quando facciamo il whatsapp, mandiamo l'email, facciamo la chat o navigiamo su internet, sono tutti servizi non legati alla latenza, cioè non ci interessa se non c'è una reattività immediata, perché ci aspettiamo di avere un feedback in tempi ragionevoli, in sostanza. La stessa cosa capita per i servizi di broadcasting, per esempio, quando guardiamo la tv via satellite, in qualche maniera è one way, per cui la latenza è una cosa molto relativa. Certo, se mentre sto vedendo su un display la stessa partita trasmessa da Sky e la stessa trasmessa dal digitale terrestre, mi accorgo che c'è un ritardo, ma perché ho queste due situazioni contemporanee. Comunque, per riassumere, le costellazioni Leo, quindi satelliti in questa posizione orbitale molto bassa, per esempio Starlink di SpaceX, di Elon Musk, è una delle costellazioni che si stanno implementando per uso telecomunicativo, sono composte da un numero molto grande di satelliti che fra di loro si muovono velocemente. Il numero così alto serve a garantire una copertura globale sulla Terra, però rispetto a un geostazionario le tali costellazioni consentono anche di coprire tutta la Terra, compresi Poli in sostanza. Quindi veramente si ha la possibilità di avere delle orbite satellitari, delle opportunità satellitari sotto questo punto di vista, molto più facili da confrontare con le reti terrestri. Infatti il 5G vuole proprio andare verso questa tipologia di costellazione come primo input verso lo spazio e sarà in grado di fornire tutta una serie di servizi, come vi anticipavo, legati al concetto di implementazione della rete, servizi dove c'è anche la sicurezza a bordo, consentire per esempio servizi tipo mobile, quindi tipo simile a quelli che utilizzano la telefonia mobile, i cellulari e via dicendo. E ci sono molti challenging, molte sfide che stiamo portando avanti come la criptografia di nuova generazione, la cosiddetta post quantum criptography e in prospettiva anche il quantum key distribution che comunque è molto diverso dal post quantum criptography, ma anche altri servizi legati alla gestione di situazioni di crisi, di monitoraggio delle infrastrutture, quindi qualcosa che è molto più vicino alla nostra vita ma di cui molte volte noi non ci rendiamo molto conto. Allora, quest'altra slide che sembra un po' simile a quella che vi ho fatto vedere prima, l'ha preparato mio collega Giuseppe Rinelli che lavora nel mio staff e con cui stiamo facendo molte cose, qui noi mostriamo in altre parole quello che sarà la prospettiva del 6G, cioè il 6G rispetto al 5G NTN e al BN 5G che cosa avrà ancora di ulteriore? È che quando avremo questa rete globale satellitare implementata, deployata come dicono gli inglesi, è connessa con la terra, con la rete spaziale, inserire servizi embedded. Per esempio oggi molti servizi che utilizziamo noi sulla rete terrestre, per esempio il clouding o il processing di prossimità, in realtà non è che c'è un computer da qualche parte che ci fornisce queste capability, ma sono tante capability sparse per tutta la rete, tanti server, tanti router che combinati fra di loro verso noi utenti ci danno la visibilità dell'unicum, ma non è unicum, ci sono tanti server nel mondo su cui i nostri dati sono spalmati in sostanza. Ecco, ovviamente questa capability, questo modo di operare sarà portato anche nello spazio, quindi il satellite diventerà un nodo di rete, sta diventando un nodo di rete, quindi ospiterà a bordo una capacità di processamento tale da poter diventare un router e anche un server. questo sarà sancito fondamentalmente dall'utilizzo del protocollo 6G, che sarà come dire il 5G che si è evoluto al massimo e ormai diventato uno stand alone completo, quindi non più linkato con il 4G, con il 3G, con le altre rete che fino ad oggi noi siamo abituati a utilizzare e utilizziamo, ma avrà una sua autonomia completa e assorbirà in sé tutti quei servizi e quelle caratteristiche che oggi sono comuni nelle reti terrestri. Quindi questa slide molto pictorial dimostra appunto questa visione in sostanza. Allora, vediamo adesso delle capability, ho quasi finito il mio, diciamo, il mio escursus. Vediamo un pochettino quali sono le capability fondamentali su cui ci stiamo concentrando. Beh, prima di tutto quelle legate al satellite, fondamentalmente sono la capacità del satellite in termini di prestazioni, in termini di throughput che può essere fornito, quindi capacità di fornire traffico ad alte prestazioni e la copertura, vi ho spiegato, no? Sono costellazioni che devono garantire una copertura globale fatta su tutta la Terra, però con un approccio simile alla copertura cellulare delle reti cellulari terrestri. Poi abbiamo il secondo livello che è le capacità di networking, cioè di gestire tutta una serie di operatività, di capability legate proprio alle reti. Quindi avere dei servizi che sono sostenibili in qualche maniera, che possono essere implementati e che la loro operatività non sia un costo eccessivo, che possano essere facilmente configurabili. Devono essere anche molto robusti, resilienti, quindi garantire una connettività sempre e ovunque, in qualsiasi situazione. E i satelliti, per esempio, che non sono legati a infrastrutture terrestri in maniera molto forte, consentono per esempio di fornire disponibilità anche in caso di crisi. Per esempio, se c'è stato un terremoto, una qualche situazione che ha buttato giù ponti, connettività, eccetera, il satellite invece funziona sempre. Quindi bisogna semplicemente avere un terminale che ci consenta di collegarlo. E poi la sicurezza, quindi le stesse capability di sicurezza, tipicamente la sicurezza crittografica, quella sui dati che noi utilizziamo nella nostra vita di ogni giorno, quando per esempio accediamo al nostro conto in banca o facciamo o instauriamo una VPN, una virtual private network, per poterci connettere da casa con la nostra azienda. Per esempio oggi lo smart working è una cosa che noi facciamo correntemente. Per poter fare questo noi dobbiamo accedere alla nostra azienda in maniera sicura, cioè sicuri di non essere intercettati da hacker o da chi vuole in altre parole per rubarci dati. E poi il design. Come stiamo progettando queste cose? Dal terminale al satellite alla configurazione di rete, eccetera. Lo vogliamo fare facendo dei servizi che siano effettivamente realizzabili, però lo vogliamo fare anche cercando di configurare il nostro design con quelle che saranno poi le esigenze degli utenti. Cioè non vogliamo fare qualcosa che poi non è in realtà di interesse oppure non sarà utilizzato. Vogliamo, in altre parole, da un lato conformarci alle richieste degli utenti. Al contempo vogliamo proporre agli utenti anche nuovi servizi, probabilmente loro non immaginano e questo ovviamente apre nuove opportunità, nuovi mercati. Quindi la possibilità di poter fare ulteriore business rispetto a quello che usualmente si può fare con le reti, in sostanza. Infine, la operabilità e la funzionalità del sistema in termini di utilizzo, per esempio, dello spettro elettromagnetico per le telecomunicazioni. Oggi è molto congestionato, ecco perché stiamo targettando frequenze sempre più alte, si parla della banda W da 78 a 84 GHz, ma stiamo targettando anche il Terahertz e quindi l'ottico, come vi stavo dicendo prima. Ovviamente non possiamo avere lo smartphone ottico perché dovremmo stare con questo là, se che guarda il cielo. La parte user segment continuerà ancora a utilizzare la radiofrequenza, ma per esempio tutta la parte di accesso alla rete, la cosiddetta parte di feeder link, la stiamo portando verso una connettività di tipo ottico perché garantisce una sicurezza intrinseca a causa della grande direttività dei link ottici e consente anche dei throughput sempre legati a questa direttività molto molto alti. Si parla del TeraBit, dei TeraBit, più TeraBit in sostanza, quindi è una grande opportunità che noi abbiamo. Poi la possibilità di poter costruire reti riconfigurabili, per esempio il 5G, uno degli elementi che adotta è l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale per poter, si chiama orchestratore questo elemento, perché è una rete talmente complessa, talmente variegata, una rete che dà tante di quelle opportunità che è necessario avere un'entità molto complessa di tipo elaborativo che sia in grado di decidere momento per momento, utente per utente, servizio per servizio richiesto, qual è la strada migliore che quel pacchetto, che quel servizio possa utilizzare per poter mantenere sempre una qualità del servizio, una cosiddetta qualità dell'esperienza molto molto alta, cioè l'utente deve avere una certa, come dire, continuità in quello che sta facendo senza interruzioni e questo è un altro elemento importante che per esempio ci induce ad utilizzare, a studiare tecniche di intelligenza artificiale per gestire le reti in termini di gestione dello spettro, in termini di gestione del servizio, in termini di gestione dei link che la rete diciamo è sinseca e poi c'è la questione della continuità e della trasparenza fra rete spaziale e rete terrestre. Come dicevo all'inizio di questo seminario non ci deve essere da parte dell'utente il problema di capire se si deve connettere sul satellite o sulla rete terrestre, lui deve fare un servizio, si deve muovere nella rete e deve continuare questo servizio indipendentemente da quello che sarà il link. Io in realtà avrei finito, ci sono adesso delle altre slide che in realtà raccontano nel dettaglio quello che io già vi ho riassunto in questa spiegazione molto veloce dei quattro gruppi di capability che appunto caratterizzano tutto questo, però insomma questo ve lo lascio poi nell'end out che provvederò di questa presentazione. Sostanzialmente quello che vi ho raccontato in termini per quanto alle capability è proprio quello che poi sta illustrato con qualche frase un po' più chiarificativa e diretta a quello che in qualche maniera vi ho raccontato. Va bene, voglio finire con la penultima slide, ce n'è ancora un'altra poi ve la vedrò. Allora, che cosa riporta questa slide? È un po' una specie di riassunto di quello che vi ho detto, però focalizzato su quelli che sono gli elementi fondamentali che chi si occupa dell'implementazione del 5G, BIAN 5G, 6G non terrestre al network, deve tenere a mente. Quindi fondamentalmente le capacità, le caratteristiche delle reti satellitari in termini di reti, quindi satellite network, design consente, ne do conto di quelle che sono le sue caratteristiche, cioè quei parametri che in qualche maniera potrebbero creare apparentemente dei problemi, ma che gestiti opportunamente ci consentono di implementare tutta una serie di servizi. Fondamentalmente sono le tipologie di orbite in termini di, come vi ho spiegato prima, di satelliti Leo, Bileo, Meo, Geo e via dicendo. La latenza, che è un elemento fondamentale nei satelliti, anche i problemi di propagazione, perché noi attraversiamo l'atmosfera per andare nello spazio e dallo spazio entriamo all'atmosfera, e le frequenze che utilizziamo il più delle volte, in particolare i lincottici, sono molto sensibili alle caratteristiche dell'atmosfera in termini di condizioni meteorologiche, turbolenza, fenomeni di scintillazione e quant'altro. Poi abbiamo il problema anche del Doppler, per esempio costellazioni in orbite basse hanno satelliti che si muovono velocemente, per mantenere costante il servizio verso l'utente noi implementiamo tecniche di intersegment and hovering, cioè facciamo in modo che i satelliti inter e intra segment and hovering, facciamo in modo che i satelliti sorgendo e tramontando siano in grado di scambiarsi il servizio in maniera che verso l'utente finale ci sia la continuità dello stesso. Quindi implementare tecniche per fare l'inter e l'intra segment and hovering non è una cosa facile, però noi ormai lo facciamo da tanto tempo e abbiamo ormai delle primitive, delle soluzioni molto consistenti. E ovviamente la copertura, i satelliti a secondo delle orbite scelte sono in grado di garantire delle coperture. L'obiettivo è quello di garantire la copertura globale, compresi i poli e addirittura, come vi dicevo, mettendo, dando anche un link verso le costellazioni TLC sulla Luna. Questa è la prossima frontiera che affronteremo. Poi ci sono dei KPI, dei Key Performance Indicator che vengono implementati per quantificare poi tutto questo, per dire effettivamente che la prestazione è alta, che la funzionalità è la migliore eccetera. Quindi in questa parte centrale io illustro in altre parole quali sono le aree in cui i KPI vengono sviluppati e poi alla fine tutto quello che riguarda gli news case, i servizi e le applicazioni. Fondamentalmente ci stiamo concentrando molto su i cosiddetti servizi governativi o istituzionali, perché le istituzioni sono i primi a richiedere questo tipo di capacità, di opportunità di rete, di entrare in rete. Il tipico broadband, cioè i servizi a larga banda, che sono il broadcast televisivo ma sono anche la navigazione su internet, sono tanti servizi che richiedono grandi throughput di dati. Oggi si stanno molto affermando poi anche le cosiddette machine to machine internet of things, la domotica, ma la domotica è una banalizzazione in realtà. Immaginate che molti sistemi, specialmente quelli che monitorano tante infrastrutture terrestri, producono una marea di dati che devono essere elaborati. Questi fanno parte un po' dell'internet of things e del machine to machine. I satelliti ci stanno aiutando a fare questo, perché sono in grado di creare, dare opportunità di accesso alle reti IoT in qualsiasi parte del mondo, dal deserto al centro urbano all'oceano e chi più ne ha più ne metta. Quindi utilizzare reti satellitari soprattutto per l'IoT è una cosa importante. Oggi molti player satellitari, soprattutto i cosiddetti operatori satellitari, stanno mettendo in piedi costellazioni in orbita bassa solo per fare servizi IoT. Per esempio c'è l'iniziativa Eilo di Utensat, per esempio, ma ci sono tante altre iniziative a livello europeo e internazionali che stanno facendo questo. Questo sta aprendo le porte a quelli che sono i cosiddetti servizi spazio-spazio, quindi satelliti che entreranno in rete tramite altri satelliti per fare servizi direttamente nello spazio. Per esempio satelliti che devono scambiare con la Terra le telemetrie e ricevere i telecomandi. Oggi lo fanno solo quando sono in visibilità della stazione a Terra, ma se c'è già una rete nello spazio attraverso cui mandare queste informazioni, loro saranno sempre connessi col centro servizio a Terra perché lo faranno tramite la rete spaziale sostanzialmente. E infine la sicurezza, quindi per fare tutto questo abbiamo bisogno di tecniche crittografiche robuste, nel senso adatti allo spazio, ma anche che tengano conto dell'evoluzione della tecnologia. Stanno per uscire sul mercato i cosiddetti computer quantistici che sono in grado di fare operazioni che con i classici computer richiederebbero anni in pochi secondi. Sono molto importanti per la nostra evoluzione tecnologica, ma sono anche uno strumento pericoloso in mano agli hacker, per esempio, è come il coltello in sostanza. Lo si può utilizzare per tagliare il pane o per uccidere una persona, è sempre lui il coltello che lo fa. E infine concludo con due delle ultime iniziative che stiamo portando avanti verso l'Agenzia Spaziale Europea, sono due progetti, il primo è Gadget sulla sinistra, il secondo è Eger sulla destra. Gadget è un dimostratore, sta dimostrando come implementando due user equipment e un GinoDB che sono due elementi delle reti 5G, utente e gateway d'accesso e dietro al GinoDB c'è anche il core network, quindi la rete 5G che a sua volta si connette all'internet. Cosa succede quando ci mettiamo in mezzo un satellite worst case? Per esempio in questo caso utilizzeremo Atena Fidus che è un geostazionario dove c'è quindi una grande latenza, problemi di availability e quant'altro e stiamo quindi implementando, customizzando un software che ci consente di essere robusto e adatto ad essere utilizzato anche in connessioni satellitari. E poi Eger, Eger sta affrontando il tema di vedere quali sono le tecnologie più promettenti, più interessanti per poter implementare il BIAN 5G e il 6G NTN, tutto per lo spazio. Questi sono due dei capisalti, poi abbiamo altre iniziative tra noi Talessa Lignaspes Italia e Talessa Lignaspes Francia con cui stiamo lavorando moltissimo, siamo un unico gruppo dove stiamo veramente portando avanti la possibilità di implementare effettivamente in poco tempo prodotti di rete per lo spazio, ci stiamo già lavorando, quindi siamo tra coloro che stanno incentivando moltissimo la tecnologia e il mercato per implementare effettivamente le reti spaziali come le ho descritte in questo seminario. Va bene, io ho concluso questo escursus, vi ho dato un po' una panoramica che focalizzata su 5G in realtà, come vedete, abbraccia diverse tecnologie che noi stiamo targettando, come si può dire in maniera brutale. Ecco, io ho finito la mia presentazione, sono disponibile anche a rispondere a eventuali vostre domande. Grazie. Grazie ancora dottor Schena, molto interessante, molto chiaro. Io direi, ho tantissime domande ma apro la discussione, vedo professor Frezza. Ah, Fabrizio. Ciao Fabrizio. Piacere di vederla, io ho seguito uno dei corsi di dottorato tantissimi anni fa, prego lasciarci la parola. Sì, appunto, volevo fare questa domanda in quanto, come dire, ex supervisore di Enzo nel dottorato in elettromagnetismo e quindi volevo chiedergli, secondo lui, in questa prospettiva, quali sono le competenze di natura elettromagnetica più cruciali per queste applicazioni, se ve ne sono naturalmente. No, no, ci sono ovviamente uno dei campi su cui stiamo, anzi ti ringrazio Fabrizio per la domanda che mi stai facendo, perché è molto importante. Ovviamente è un, come dicevo prima, una specie di layering, quindi a strati. Il primo strato è quello fisico, ovviamente. Anzi, oggi, fondamentalmente i satelliti lavorano su stato fisico, quindi se, per chi conosce un po' lo stack Isoosi, noi lavoriamo a stato fisico in tutte le sue definizioni, quindi non soltanto la parte analogica ma anche la parte digitale. Ovviamente in questo caso parliamo della parte analogica. Noi stiamo targettando diverse regge di frequenza per le telecomunicazioni, che non sono più le tipiche banda X, banda C, banda L, banda KU, quella utilizzata in sostanza per il broadcast intervisivo, ma già da tempo implementiamo la banda KA, quindi andiamo fondamentalmente da 17,5 gigahertz banda KA fino alla banda KA, che stiamo fra i 30 e i 33 gigahertz, perché ci consente di avere molta più capability e di ridurre le dimensioni dei terminali. Ma utilizziamo anche la banda QV, la cosiddetta EHF, per andare verso la banda W. Quindi a livello spettro elettromagnetico, radio, queste sono le bande, però come dicevo prima, stiamo già lavorando nel Terahertz, nell'ottico. I link ottici lavorano in genere, stiamo considerando due lunghezze d'onda fondamentali, che sono la 1064 e la 1050 nanometri, che sono le due tipiche lunghezze d'onda di riferimento, ovviamente attorno a questa ci sono dei range, con cui poter fare il servizio di Lasercom, soprattutto per il feeder link. Con l'Agenzia Spaziale Europea stiamo lavorando per definire degli standard di interfaccia molto robusti, stiamo lavorando per esempio anche con Scuola Superiore Sant'Anna, il professore Ernesto Ceramella, che è un esperto, uno dei massimi in questo campo. Quindi, come dire, a livello di Bührer elettromagnetico, sì, ci sono molte possibilità. Abbiamo bisogno di ottimizzare moltissimo l'utilizzo dello spettro e di tutte le capabilità che esso presenta. E questo implica anche poter poi ingegnerizzare le particolari antenne, particolari terminali, che tenendo conto un po' delle caratteristiche di queste frequenze, quindi queste onde elettromagnetiche, siano in grado di fornire qualcosa di molto efficace verso specialmente gli utenti che si dovranno collegare alla rete. Quindi ci sono opportunità di progetti, di sviluppo tecnologico e anche di collaborazione in questo ambito. Grazie Enzo. Dobbiamo fare altre domande, come se nessuno alza la mano. Per il momento ne faccio una io. Ah no, ecco qua. Ah Francesco, sì sì. Ciao Francesco. Vi conosco un po' tutti, guarda. Non so se si è attivata la web, come aspettate. Vabbè, ma la tua voce non te la sentiamo, dai. Ecco qua. Ah, ecco qua. Innanzitutto faccio i complimenti a Vincenzo, conosco, per il bel seminario. Mi collego un attimino alla domanda che ha fatto il professor Frezza. Chiaramente hai risposto parlando, diciamo, del livello 1. È chiaro che per poter orchestrare, quindi per poter poi connettere i due mondi non terrestre e terrestre, c'è tutto il, diciamo, il gap sta nella parte di controllo. Sì. Quali potrebbero essere le tecnologie che potrebbero andare a limare questo gap, per poter poi orchestrare in maniera congiunta i due mondi? Beh, fondamentalmente, come dicevo prima, una delle tecnologie fondamentali è la cosiddetta intelligenza artificiale, no? Oggi dobbiamo utilizzare, soprattutto nella gestione di rete, infatti prima facevo l'esempio dell'orchestratore del modello 5G, del protocollo 5G. Anzi, il 5G a causa di questo è una suite più che un protocollo, quindi è un insieme di protocolli che convergono verso un unico corpo, un unico body, in sostanza. L'intelligenza artificiale sicuramente le cosiddette tecniche deep learning sono uno degli strumenti fondamentali, tecnologici, innovativi, che oggi possono anche traghettare la tipica maniera di gestire il controllo di rete, la configurazione di rete e in generale il suo management in una maniera molto più interattiva, ma anche più indipendente, diciamo, dagli operatori, perché voi sapete che gestire una rete sotto questo punto di vista implica un costo anche, Telespazio sicuramente potrebbe fare lezione su questo se loro, se parlano delle attività che fanno al fucino, perché ci vogliono tante persone che momento per momento devono monitorare la rete, la devono configurare, la devono orchestrare. Ecco, questi algoritmi, queste tecniche basate su intelligenza artificiale sono sicuramente l'opportunità di nuova tecnologia per far fare un passo in avanti anche alla gestione delle reti, che sono reti adesso non più singole, ma sono reti eterogenee, con diverse tecnologie, diverse metodologie d'accesso che fra di loro si integrano e la stessa integrazione spazio-terra implica un'evoluzione del genere, un improvement, come dicono gli inglesi, in questa direzione. Ecco perché si stanno utilizzando, si stanno targettando queste tecniche. Per esempio, insomma, con te Francesco stiamo lavorando su Hydron, le reti ottiche, e quindi stiamo già assaggiando un po' di queste necessità, di queste impellenze di aggiornamento, perché, come dicevo, fra non molto i router li avremo nello spazio, i server li avremo nello spazio, e sarà quindi abbastanza complicato e complesso gestire la rete con i metodi tradizionali, per cui abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti a migliorare un po' tutto questo. Ok, grazie mille. Prego, se è stato dato a Francesco, vive da solo bisco, non posso dire il cognome. Prego. E' muto, eh? Prego, dobbiamo. Ok, ero muto, chiedo scusa. Dicevo, all'inizio della presentazione si era parlato del digital divide, quindi ovviamente della possibilità di avere delle reti satellitari senza dover creare delle reti terrestre. Ci sono delle proiezioni sui costi operativi delle reti satellitali, perché se andiamo a vedere i dati oggi e anche nel futuro prossimo, il satellitare resta valido soltanto nei casi in cui il terrestre non è un'opzione viabile. Andiamo a vedere per esempio i costi della connettività satellitare di Starlink. Starlink opera pesantemente in rosso, l'antenna costa 3.000 euro, anche se viene fatta pagare 500. Quindi ci sono delle proiezioni di costo e anche poi c'è l'annoso problema dell'efficienza della banda, che non è disponibile in tutto il mondo. Quindi ci sono delle proiezioni di costo di quale potrebbe essere una connettività esclusivamente 5G satellitare, ovvero supponiamo che una regione che non ha ripetitori a terra, BTS a terra, quindi quale sarebbe il costo dollaro a bit? Sì, ovviamente non sono io la persona diciamo in grado di rispondere a questa domanda così specifica, diciamo l'ultima parte che ha fatto il dollaro a bit in sostanza. Ci stiamo lavorando, abbiamo già fatto delle proiezioni, ci sono delle roadmap e anche delle cosiddette visioni di mercato su questo. È vero, è importante, però dobbiamo partire da un fatto molto, delle considerazioni molto importanti per questo. Attualmente la parte di mondo effettivamente cablata con delle infrastrutture è molto bassa come percentuale, quindi soprattutto il mondo occidentale e altre aree nel mondo che sono molto concentrate. La stragrande maggioranza della connettività mondiale in termini di infrastruttura non esiste e i costi per implementare queste infrastrutture sono molto, molto alti. Quindi i satelliti sostanzialmente cosa hanno? Hanno un capex iniziale, quindi un costo implementativo molto alto a livello di infrastruttura, perché costruire un satellite e lanciarlo ha un costo abbastanza elevato. Questo costo si sta riducendo grazie all'introduzione di nuove metodologie, di nuove tecnologie che stanno anche nella cosiddetta produzione massive di satelliti, sta riducendo moltissimo i capex sotto questo punto di vista. I costi operativi, come dire, sono un po' più bassi sotto questo punto di vista. Anche, come dicevo prima, introducendo nuove tecnologie basate per esempio su intelligenza artificiale, via dicendo, in prospettiva renderanno più efficiente e meno oneroso in termini di costo la gestione, poi l'opex, della rete. Tutto rimarrà concentrato sul terminale. Anche quelli, come dire, in prospettiva è previsto che si riducano molto i costi. È ovvio che ci vogliono iniziative come quella che sta facendo Elon Musk, che sta, come dire, investendo, dire che, diciamo, i costi sono in rosso. Lui sta investendo perché sta promuovendo il suo sistema Starlink, lo sta, come dire, proponendo in maniera molto, molto consistente al mercato. Beh, se ci pensiamo un po' bene, un po' a quello che fu fatto agli inizi dell'introduzione delle tecnologie mobili, di connettività mobile, perché il mercato non la richiedeva, quindi è stato un pushing che è stato fatto dai vari tecnologi operatori che, investendo tanti soldini, hanno proposto al mercato, in maniera molto diretta, che cosa si poteva fare con questa tecnologia. Oggi la connettività mobile terrestre costa quasi zero, i telefoni fissi sono quasi spariti, per dire qualcosa che nessuno immaginava e che forse nessuno ne aveva l'esigenza. Allora, andavamo bene con le nostre cabine telefoniche, il nostro telefono fisso a casa ci bastava e ci avanzava, però poi ci è piaciuto moltissimo utilizzare questo nuovo tipo di connettività che ci ha consentito anche di fare molto di più della semplice telefonata. Oggi uno smartphone è qualcosa di molto di più che un semplice telefono. Ecco, anche nello spazio stiamo andando verso questa direzione. Infatti stiamo promuovendo molto queste tecniche verso quelli che sono gli operatori terrestri, per esempio, perché sono richiesti anche degli interventi, degli investimenti. Quindi per poter dare dei numeri precisi, ovviamente non sono io la persona adatta a fare questo e non sono neanche autorizzati in azienda a farlo, però posso, come dire, mettere in contatto con chi è in grado di fornire questi dati. Comunque ci sono molti, molti articoli anche su internet che trattano questa materia. Per cui, però ecco, dobbiamo anche avere un po' il coraggio di andare al di là di quelli che sono gli tipici stereotipi di cui già da adesso uno comincia a pensare i costi, a dire, ma costa tantissimo lanciare un stradale. Sì, è vero, però c'è un trend a diminuire per questi costi, per l'immediato futuro. Abbiamo una roadmap molto challenging, perché tutto questo deve essere fatto entro il decennio in corso, quindi entro il 2030 in sostanza, e già con l'implementazione di certe infrastrutture stiamo targettando il 2027, il 2028, che insomma, tutto sommato non è un arco temporale così grande rispetto a quello che stiamo adesso. Però è un elemento importante che sicuramente è preso in considerazione, anzi fondamentalmente è preso in considerazione. Grazie. Prego, abbiamo un'altra domanda da Baldini, Gianmarco. No, non so se mi sentite molto basso. È un po' basso, sì. Solgo le cuffie, parlo direttamente. Congratulazioni per la presentazione, sono Gianmarco Baldini del Joint Reser Center, della Commissione. È molto interessante la sua presentazione. Sono curioso di un aspetto che hai menzionato prima nella presentazione riguardo all'internet working tra i diversi sistemi satellitari e soprattutto allo stato della standardizzazione per quanto riguarda l'interfaccia, per esempio, dei terminali o dei sistemi. Per esempio, sono a conoscenza di questo standard, che è il DIFI, che è stato sviluppato recentemente, il Digital Internet Frequency Interoperability, ma sono curioso di sapere da lei cosa ne pensa dello stato, da questo punto di vista, standardizzazione dell'interfaccia, perché penso sia un elemento molto importante per lo sviluppo. Certo, certo. Certo, certo. Beh, è un'attività in corso. Per quanto la standardizzazione, nell'ambito in cui lavoro, se ne occupano soprattutto i miei colleghi francesi, dall'Eastern Space Friends, che partecipano proprio, anche per il nostro conto, agli standardization body e via dicendo, legati al 5G e via dicendo. Sì, anche gli standard si stanno evolvendo moltissimo, il lavoro è in corso, ma anche qui abbiamo un target temporale molto ravvicinato, quindi vogliamo concretizzare il tutto entro pochissimo tempo. Da un lato, per quanto concerne gli standard legati al 5G, già diciamo, lo scorso giugno è stato, come dire, emesso il primo standard del stand-alone, l'Ari-17, del 5G NTN, ma si sta andando avanti per le altre. Per quanto concerne gli stati fisici, invece, io personalmente con il mio team stiamo collaborando nell'ambito hydron con l'ESA per quanto è l'incottici. In essi stiamo definendo appunto gli standard che devono essere utilizzati per l'Ari-Interface, quindi per l'interfaccia tra terminale terrestre, terminale satellitare, terminale satellitare con terminale satellitare, scegliendo quelle che sono le giuste waveform, le capacità che devono essere implementate, quindi modi modulativi, modi di codifica, modi di gestione e poi a livello operativo il link. Quindi per quanto agli standard ci stiamo lavorando, se ne stanno occupando altri colleghi, io faccio parte un po' di questo perché io soprattutto sono un tecnologo in sostanza, quindi colui che poi alla fine prende tutto questo lo fa diventare fondamentalmente un prototipo e quindi in prospettiva un prodotto. Però ecco, anche su questo si sta andando in maniera molto accelerata perché lo standard consente anche di poter fare in modo che nell'implementare il concetto di rete che prima ho spiegato, ovviamente non lo può fare un solo player, ma saranno tanti player che fra di loro collaboreranno un po' come si è fatto ai suoi tempi per internet, come si sta facendo oggi per il sistema Galileo per esempio, quindi avere uno standard è fondamentale perché consente di poter far intervenire diversi operatori che faranno ciascuno una parte della rete o forniranno anche al mercato dello stesso tipologia di sistema diversi modelli, diversi brand che consentiranno anche di creare una certa competitività e quindi saranno uno stimolo anche ad abbassamento dei costi, dei prezzi di questi terminali e per fare questo è necessario avere degli standard, quindi degli standard che coprano un pochettino tutti i livelli per esempio dello stack isosi, dalla fisica fino ad arrivare a quello di rete, di trasporto e via dicendo. Quindi è un lavoro in corso legato anche alle varie aree tecnologiche, quindi si utilizza lo spettro elettromagnetico, radiofrequenza, l'ottico e via dicendo, per ciascuno di essi stiamo sviluppando, stiamo cooperando allo sviluppo e alla finalizzazione di standard, soprattutto per quanto all'interfaccia radio o all'interfaccia aerea, così c'entra anche l'ottico, per i terminali soprattutto, quindi per i vari front end dal lato user e dal lato feeder link verso i sistemi. Non so se questo risponde un pochettino alla domanda. Sì, sì, grazie molto della risposta, sono stati d'accordo e grazie ancora del suo tempo di aver dato questa presentazione. Ci sono altre domande? Adesso non vedo male alzate, ne faccio una perché in realtà si sovrappone un po' alle altre ma vuole essere forse più diretta se vogliamo, nel senso che vedo il... La Roma è molto... i tempi sono stretti, dieci anni per una visione così complessa sembrano pochi, quindi dal punto di vista della ricerca quello che mi chiedo e che chiedo è ma qual è la maturità tecnologica dei sistemi, soprattutto dal punto di vista hardware, perché magari il software uno ha tempo magari di pensare davanti, ma se parliamo di dieci anni per arrivare al 6G vuol dire che dal punto di vista dell'hardware sembrerebbe tutto fatto, provocatori se vogliamo la cosa. Sì, sì, no, no, ma è una domanda molto interessante, beh se vogliamo dare un numero in questo caso è un TRL 6-7 o se devi dire, quindi diciamo sono delle implementazioni in ambienti molto significativi, dei dimostratori fondamentalmente, per esempio nel sistema Hydron, il sistema ottico che l'ESA sta promuovendo insieme alle varie delegazioni nazionali, il primo step è quello di implementare un Hydron demonstration system, quindi partiremo con due satelliti o meglio con due payload perché potrebbero anche essere ospitati come piggyback su dei satelliti già previsti al lancio. Questo consentirà di costruire il primo nucleo della rete, tant'è vero che questi dimostratori TRL 6 li stiamo pensando in maniera che poi diventino il primo elemento di quella che sarà la rete target, quella operativa, no? Quindi a livello di TRL, quindi di sviluppo tecnologico, questo è il target che noi stiamo perseguendo adesso, appunto perché è una roadmap molto challenging, molto sfidante, dove entro il 2030-2031 noi già dobbiamo avere qualcosa di molto consistente. Poi un'altra grande utilità che ha questo approccio, quindi questa, diciamo, implementazione tecnologica è che ci consentirà e ci sta consentendo anche di fornire a quelli che sono i player, quelli che gestiranno il mercato, quelli che dovranno implementare servizi per farci un business, soprattutto gli operatori terrestri, come dicevo, gli diamo così la possibilità di vedere praticamente il funzionamento della rete in una versione scalata e di cominciarla essi stessi ad utilizzarla per poter appunto valutare il loro interesse ma anche darci suggerimenti, quindi il cosiddetto mean valuable system che noi vogliamo implementare dove ci deve essere un'interazione fra chi la utilizzerà e chi la provvederà noi e quindi questo, come dire, costringe, ci porta a dover avere almeno un TRL 6 come punto di riferimento. Questo ci è facilitato per il 5G anche da un altro approccio che nel mondo spaziale si sta utilizzando già da tempo. Voi sapete che il mondo dello spazio è un mondo molto difficile perché ci sono le radiazioni, gli sbalzi termici e via dicendo, per cui quando noi prepariamo dei componenti per lo spazio li sottoponiamo ad una serie di test per essere sicuri che siano robusti a quello che sarà l'ambiente al di fuori dell'atmosfera terrestre e il sole è il grande killer potremmo dire di tutto questo. Però ci sono oggi prodotti terrestri in termini di componentistica, di sottosistemi sviluppati soprattutto per l'automotive che presentano delle robustezze candidabili anche per lo spazio. Questo significa che noi possiamo prendere i cosiddetti prodotti COTS, qualificare dei lotti di alta qualità di questi prodotti e metterli nello spazio. Lo stiamo già facendo da tempo. Questo diventa un acceleratore dell'implementazione della tecnologia e anche un'opportunità di riduzione dei costi perché se riusciamo ad utilizzare questi componenti opportunamente scelti nello spazio e quindi anche fornire ai vari produttori degli elementi di misura con cui loro possono migliorare l'implementazione dei loro prodotti allargando diciamo la prospettiva di mercato per esempio non soltanto per l'automotivo, per il rail ma anche per lo spazio, sono anche opportunità che loro possono avere di allargare il loro mercato. Quindi questo crea un cosiddetto ciclo virtuoso che poi ci porta facilmente a portare le tecnologie nello spazio, scusate il giro di parole, a ridurre i costi e a ridurre i tempi. Quindi TRL 6, TRL 7, questo è quello che noi stiamo targettando come obiettivo nelle nostre attività. Però quello che la domanda era, ad esempio per lei c'era nell'elenco delle challenge, c'era il discorso di fare la connessione diretta tra uno smartphone 5G e i satelliti direttamente. Ecco questo mi sembra che da quello che sento è proprio il santo grado, nel senso ma questo è lontano da essere un TRL 6 o no? Beh ma non dimentichiamoci che i satelliti in orbita bassissima, quelli di cui ho descritto prima, consentono questo, ci danno la possibilità di avere una connettività omnidirezionale, quindi con uno smartphone è più facile connettersi perché il satellite è abbastanza vicino rispetto a quello che è la tipica distanza che un satellite ci pone, pone fra il terminale e il satellite stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste costellazioni in orbita bassa anche perché presentano dei costi implementativi molto bassi, tutta una serie di convenienze che adesso non vi sto a spiegare, però come dire avere satelliti in orbita bassa ci consente appunto di concepire in prospettiva anche degli smartphone che possono connettersi sia con la ruota terrestre che con la rete spaziale e questo ancora una volta giustifica il TRL 6 di cui parlavo. Noi stiamo facendo molti studi, molte proposte, molte attività in cui stiamo implementando con la collaborazione di vessienti per esempio dei CubeSat da lanciare con sopra delle sottosistemi da testare perché è molto facile farli, è molto facile lanciarli, è molto facile gestirli e questo significa, ripeto, TRL 6, quindi anche sotto questo punto di vista i terminali, la connettività fatta in una certa maniera è una delle cose che si sta rendendo possibile oggi, quindi non è una chimera o qualche cosa che sta richiedendo chissà quali investimenti, chissà quali tempi per essere implementata. Non so se questo diciamo chiarisce un pochettino il modo con cui ci stiamo muovendo, ma è anche il modo con cui si sta muovendo l'agenzia, l'ESA, quindi anche l'ESA sta promuovendo gare, iniziative che vanno in questa direzione in sostanza. Grazie. Capito. Le ringrazio molto. Lucanus vuoi chiudere il ciclo? Tanto così le ringrazio, oppure le chiudo io? Se compare Lucanus. Ci puoi pensare a te, Giuseppe? Ok, ok, benissimo. Allora, io ringrazio ancora moltissimo il dottor Schene che ci ha fornito un'importantissima visione sul 6G e ringrazio anche tutti voi che siete rimasti fino alla fine e avete partecipato con domande alla sessione. Quindi grazie a tutti, grazie al dottor Schena e speriamo che anche da queste attività in qualche modo possa anche nascere qualcosa di nuovo. Grazie mille a tutti e buonasera. Grazie, arrivederci.